C'ho dovuto lavorare, ma alla fine ce li ho. Il peggio del peggio. Dove? Diciamo che li ho messi in un buco e ho buttato il buco. Giravoce, Amanda, che alcuni abbiano delle capacità. Ah, sì, ho visto qualcosa. Di cavolo ci fai qui? Forse Superman per me è stata una luce che li ha fatto strisciare fuori dall'ombra. Voglio assemblare una task force della gente più pericolosa del pianeta che può fare qualcosa di buono. È gente cattiva. Esatto. E se qualcosa va storto neghiamo tutto e diamo la colpa a loro. Perché pensi di poterli controllare? Perché convincere la gente ad agire contro il proprio interesse è ciò che faccio per vivere. che faccia essere qui. Esatto. Tu sei il diavolo Ti basti sapere che lavori per me Ora fuori dai coglioni Questo siamo, eh? Capri e spiatori Una specie di squadra suicida Salviamo il mondo Sei in un bel guaio Spero tutto assicurato Sai che si dice no di quelli matti? Voglio solo farti male Molto, molto male Ma le... Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti